il segnale sul bitcoin sui mercati cripto che nessuno sta guardando parte numero 2 bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video vi avevo promesso nel video di lunedì che avremmo parlato anche di un altro grafico per andare ad analizzare la situazione di lungo periodo di bitcoin cercare di chiarire la questione legata al fatto che sembra che questa momento questa fase di totale disillusione del mercato cripto abbia tralasciato l'enorme e importante rialzo di bitcoin di questi mesi rialzo che è stato consistente di otto mesi di fila che forse potrà cambiare anche il trend attuale e dire bye bye in maniera definitiva anche se molti pensano che ormai l'abbia già fatto a questa fase di bassista e l'importanza come dicevo anche in quel video del farsi trovare pronti per quello che è la fase successiva a questa fase rialzista questa è un anno di conferma ragazzi un anno in cui il mercato deve dare delle conferme deve indicare che noi stiamo prendendo nuovamente una strada di un trend diverso un trend long e un trend rialzista e negli anni però futuri 2024 e soprattutto 2025 lo vediamo in questo video potremmo avere una grande opportunità e personalmente ragazzi sarebbe addirittura la terza che vedo io in questo caso nei mercati delle cripto allora è un video concentrato ma breve quindi state seduti sulla sedia e iniziamo subito a parlare di una cosetta il ciclo di vita dell'investitore poi passiamo al grafico ve lo faccio vedere vi ho lasciato nel video di lunedì dicendovi quale è il punto secondo voi dove siamo finiti nel ciclo di vita dell'investitore e vi serve un po' anche a ragionare da questo punto di vista per chiarire tante cose andiamo a vedere insieme eccolo qui ragazzi il ciclo di vita dell'investitore che riguarda un po' tutti soprattutto nei mercati delle cripto consiglio ovviamente di fare un giochino ognuno di voi può andare a verificare in tutte le fasi dell'andamento di bitcoin dove si è trovato in questo ciclo di vita dell'investitore tutti affrontiamo questa problematica quindi analizzatela è veramente interessante un gioco da fare per esempio in euforia quando eravamo sui massimi storici anzi negazione quando è iniziata la fase ribassista per esempio andiamolo a vedere su questo grafico quindi per esempio negli scorsi anni anzi negazione quando eravamo in questo periodo in questa zona qui anzi negazione era iniziata ad avvenire poi abbiamo avuto paura, disperazione e panico durante il crash dei mercati di luna quindi paura, disperazione dopo il crash di luna panico in generale al momento di FTX capitolazione avvenimento appunto in questa zona dove siamo dove siamo nel ciclo di vita dell'investitore molti potrebbero pensare che siamo nella zona di depressione speranza in realtà non è così addirittura non è così ragazzi siamo nella zona avvilimento e capitolazione finale cioè siamo proprio al minimo perché il minimo emotivo del ciclo di vita dell'investitore non coincide con i minimi di mercato non è così perché noi in questa zona e in questo momento proprio in questa fase qui siamo nella fase di avvilimento barra depressione cioè siamo in questa zona cioè ci stiamo appena rialzando da una fase di disperazione panico e capitolazione ma non siamo neanche vicini alla speranza la speranza la avremo probabilmente nel 2024 se tutto gira come dovrebbe magari ne parliamo più in là ed è fondamentale allora capite bene dove siamo a che punto del ciclo di vita dell'investitore siamo ragazzi avvenimento depressione e quanta strada possiamo fare se tutto funziona come è stato negli anni scorsi e per questo quanto è importante in questo contesto preciso essere preparati non soltanto per maneggiare con cura i mercati attualmente in questa fase ma per le opportunità che potrebbero arrivare ragazzi se tutto fila secondo gli anni precedenti ma soprattutto se le notizie attuali del presente quelle riguardanti i dati di natura fondamentale quindi il l'etf spot di bitcoin perché vi ricordo che tra l'altro tutti gli operatori dell'etf spot di bitcoin hanno presentato le istanze secondo quello che la secca ha richiesto e sono stati quindi corretti a questo punto la palla è tornata in mano alla secca che deve decidere già sul primo etf ad agosto ragazzi quindi pensate un po' e vi garantisco che l'avvento dell'etf da un punto di vista strutturale cambia tanto nei mercati delle cripto poi ci vorrà tempo per vederne i risultati non vi aspettate approvazione massimo storici non esiste questa cosa nei mercati esiste un cambio strutturale anzi potremmo anche assistere a un sell the news da quel punto di vista ma poi il cambio strutturale nel lungo periodo avrà grandi impatti quindi bisogna farsi trovare pronti ragazzi allora chi di voi ha indovinato che eravamo nell'avvilimento depressione scrivetemelo nei commenti per sapere chi di voi l'aveva indovinato perché io credo che in molti non abbiano indovinato diciamo questo reale posizionamento passiamo al grafico sono due veramente i grafici di oggi ragazzi che volevo farvi vedere il primo è questo il grafico annuale del di bitcoin su un dato che poi anzi facciamo una cosa prendiamolo sul prendiamolo sul grafico più lungo ok ragazzi niente non mi piaccia il grafico più lungo per una serie di motivi guardiamo questo qui il grafico più lungo comunque a ve lo faccio vedere blx a questi anni precedenti ma erano gli anni in cui bitcoin non era neanche sui exchange quindi a poco senso dal punto di vista di quotazione allora andiamo ad analizzare quelli che sono stati 4 bear market a partire dal gennaio del 2011 poi abbiamo avuto l'anno 2014 bear market dell'anno 2018 bear market dell'anno 2022 la ripetitività storica è similare ma non uguale ragazzi questo ve lo ve lo faccio vedere anche perché vedete nella struttura del 2011 bisogna capire appunto se noi abbiamo questo dato qui o questo dato qui che è frutto solo dei dati mancanti quindi questa zona non va considerata perché come vi dicevo nei dati precedenti nei dati più lunghi 2011 non è un anno di bear market ma un anno di hyper bull run quindi questo dato qui che vedete sul grafico di bit stamp che è il più lungo di quelli degli exchange va eliminato quindi noi possiamo considerare solo tre mercati orso che sono 2014 2018 2022 allora in questi tre mercati orso bitcoin ha fatto sempre una cosa cioè ha creato una struttura di un anno solo rosso che sostanzialmente non è stato un anno che ha fatto sempre il meno 80% anche questa cosa qui è girata alla fine dello scorso anno come se bitcoin dovesse scendere ancora perché non era arrivato al meno 80% irrilevante totalmente ragazzi intanto non è una serie storica a tre dati quindi è il nulla assoluto perciò non ragionate in questo modo non vi fate forviare da queste informazioni seguite sempre il trend da quel punto di vista poi possiamo anche crollare da un giorno all'altro tutto è possibile nei mercati ragazzi questo non significa che deriva dal fatto che non avevamo raggiunto l'80% non c'entra niente ragazzi quindi scomponete quelle questioni allora qui abbiamo un dato oggettivo cioè bitcoin vedete ha fatto meno 56 nell'anno 2014 meno 73 nell'anno 2018 e meno 64 nell'anno 2022 tutto secondo le regole niente di anomalo questo meno 64 non è neanche basso come il 2014 che era meno 56 e non è o il meno 73 niente ragazzi è una via di mezzo tra i due quindi in media perde tra il 60 e il 70 per cento bitcoin sostanzialmente quando fa i bear market quest'anno ha fatto il 64 cioè lo scorso anno ha fatto il 64 l'anno però di recupero nel grafico successivo vedete l'anno successivo e l'anno di recupero dal bear market non è un anno che crea espluare ragazzi non lo crea mai perché vedete anche nel 2015 c'è stato il più 34 per cento nel 2019 più 94 per cento ma non è stato un espluare e questo ve lo spiego anche in base al fatto che il mercato era salito anche di più e poi tornato indietro in ogni caso dovete paragonarlo al bear market precedente perché la fase rialzista è vero che è stata imponente ma ha ritracciato metà del rialzo precedente vedete metà del ribasso scusate precedente anche qui metà del ribasso precedente perché qui abbiamo aperto siamo crollati ulteriormente finito il bear market a metà di questi due anni poi questa candela si è rimangiata tutta e ha chiuso a metà dell'anno precedente dove siamo in questo momento a metà dell'anno precedente ma in questo contesto qui c'è stato anche la possibilità di andare a testare addirittura i massimi degli anni precedenti perché i massimi non sono quelli in shadow ragazzi ma in questi casi quando si fanno analisi di questi tipi bisogna andare a ragionare le chiusure dell'anno che sono molto rilevanti per anche gli investitori istituzionali e bitcoin nel 2019 ha testato i massimi di chiusura che erano in aria 13.000 14.000 infatti nell'anno del bull run del 2017 bitcoin ha chiuso a 13.888 poi il massimo dell'anno 2019 prezzo bt stamp 13.888 cioè un doppio massimo con la chiusura precedente qual è il livello di massimo vero di bitcoin ragazzi che dove ha chiuso nella candela del massimo del 2021 è la chiusura a 46.214 quindi il vero livello di massimo storico di bitcoin incloso annuale è 46.002 ragazzi lo stesso livello su cui ha aperto e poi crollato a picco no vedete nell'anno 2022 nell'anno del bear market queste candele gli anni successivi vanno semplicemente a ritracciare una metà dell'anno del bear market e così ha fatto sostanzialmente qui se l'era mangiato tutto poi vedete è ritornato indietro e così sta facendo in questo momento potrebbe anche tentare di fare la shadow come ha fatto nel 2020 nel 2019 quindi andando di nuovo a testare i 46.000 come ha fatto in questa zona e poi rimangiarsela richiudere in sostanza intorno ai 30.000 a questo livello di prezzo cosa che ci starebbe alla grande in vista del fatto anche della close dell'annuale attuale di bitcoin che avviene a fine anno insomma in questo caso coincide con l'anno totale ma il concetto di base è capire che l'anno successivo al bear market non è un anno di esploit dove è la chiave di lettura ragazzi? Sono gli anni successivi perché gli anni successivi avviene l'esploit e soprattutto avviene tra il secondo anno e l'anno successivo dove poi c'è il concetto diciamo dell'estensione della bull run nella bull run del 2017 è avvenuto tutto nel 2017 nella bull run del 2020 si è diviso un po' cioè siamo partiti dal 2019 stesso ma poi abbiamo avuto un 2020 molto corposo e un 2021 invece che ha avuto una hype più leggero quindi ha fatto in pratica invertito quello che è stato il 2017 l'ha spostato a un anno prima e poi ha fatto l'ultima gambetta nell'anno successivo questo perché? Perché i mercati anticipano quello che avviene quindi probabilmente nell'anno 2020 c'è stato anche un riposizionamento veloce in vista anche di questi grafici che stiamo guardando ma anche e soprattutto del concetto della quantità di vising e dell'immissione di liquidità quindi è stato un anno fazzato il 2020 ragazzi perciò l'atteggiamento di bitcoin è questo quando avviene una fase iber market abbiamo un anno di respiro e poi gli ultimi due anni, i due anni successivi quindi 2024-2025 e in questo caso quelli che verranno di potenza, di forza ragazzi ecco perché l'anno 2023, quello attuale, è un anno di preparazione è un anno importante proprio dove bisogna ragionare studiare le cose che vi servono per prepararsi a quello che verrà nell'anno 2024-2025 se poi non avviene, cioè se queste serie storiche non vengono rispettate non avreste, non avete mai perso nulla ragazzi perché basta che avete un po' di formazione e non è che state lì contro trend cioè non è quello il discorso però è fondamentale comprendere che questa fase preparatoria di bitcoin è tutta nella norma, anzi è più forte del previsto per una serie di dati oggettivi è che quello che potrà avvenire 2024-2025 può essere estremamente interessante anche in termini di hype in termini di bullrun e non vi dico solo questo ragazzi ma anche un'altra cosa bitcoin è uno all'interno delle cripto ma le up season che ormai tutti ci sono dimenticate secondo me non sono da dimenticare e non sono da abbandonare perché esistono anche delle date precise dove avvengono le up season nei cicli dell'albing di bitcoin solitamente le up season vengono posizionate a metà del secondo anno di bullrun cioè nella fase del ciclo di bitcoin dei tre anni verdi, quelli che vedete a metà di questo secondo anno parte l'alt season cioè inizia una struttura di up season più o meno ovviamente ragazzi prendeteli con le pinze ma è nel prossimo anno quindi sostanzialmente un up season rilevante potrebbe avvenire nell'anno 2024 questo significa che a prepararsi in questo contesto a ragionare non in maniera forbiante cioè non vi fate avvilire dal mercato abbiamo visto la questione dell'avvilimento e depressione non restate in questi due contesti eliminateli e ritornate in eccitazione, brivido e ottimismo questa zona qui cioè spostatevi lì perché sono i veri le vere emozioni che dovreste provare in questa fase perché questa è una fase di preparazione alle fasi successive che se vengono rispettate vi stanno dando il vi stanno dando il vi servono sul cucchiaino quello che è una potenzialità cioè la possibilità che il bitcoin continui questa fase che questo a fine dell'anno 2023 sia di riposo poi come vi stavo dicendo dopo eventualmente una fase di app attuale e la fase di riposo però significa remi imbarca programmare tutto verificare anche quelli che sono progetti che possono essere estremamente validi quali saranno il nuovo hype probabilmente del momento nell'anno 2024 riposizionare quelli che sono i portafogli gestire i rischi eccetera e da lì attendere la fase di burrana che se avviene siamo in una botte di ferro se non avviene si esce in stop oppure in break even praticamente se il mercato dovesse andare in contro trend non avete perso nulla o poco ma avete tentato un gioco una carta che invece vi cambia e vi può cambiare oggettivamente quella che è la vostra vita allora non vi fate spiazzare dal mercato non siamo sicuri che avverrà quello che è successo negli anni precedenti ragazzi non do consigli finanziari ovviamente io sono qui per aprirvi gli occhi e comprendere che una serie storica di due strutture cicliche è poco però ci sono dei dati di natura fondamentale che lasciano presagire che questa cosa sia possibile perché un avvento degli istituzionali con un ETF eccetera vi ripeto può esserci il sell on news nel breve periodo ma nel lungo periodo cambia radicalmente il paradigma dovranno comprare questi bitcoin e poi bitcoin sarà nelle tasche di tutti con questi ETF anche degli istituzionali banche comprense potranno investire le banche addirittura in bitcoin stesso alcuni di voi diranno ma in Europa si può già fare sì ragazzi ma se lo fanno gli Stati Uniti capite come il bollino blu è il bollino verde del bio come si dice quindi è una cosa che dice vabbè allora la fanno loro la facciamo anche noi ok ricordatevi questa cosa quindi grafico stra importante che ci dà un'ennesima conferma di quello che abbiamo detto nel video di lunedì e con questo video diciamo terminiamo questa fase di enorme importanza ragazzi questo è un momento buono per i mercati delle cripto è un momento in cui siamo nella fase del ciclo di vita dell'investitore di avvilimento e depressione non vi fate prendere da queste emozioni perché a noi interessa in questo momento prepararci e prepararci è fondamentale per dare nuovi per avere nuovi contesti nuovi spunti di riflessione soprattutto quando verrà e vi faccio vedere anche questa struttura molto interessante che bitcoin sta andando a creare nel breve periodo anche se non superando questa fase non è cambiato nulla però dobbiamo chiudere ancora il ciclo mensile secondo me a questo punto stiamo disegnando il ciclo mensile eternario di questo però ne parliamo poi nei video successivi dell'inizio della prossima settimana io per oggi è tutto volevo sapere anche cosa ne pensate voi e vi faccio una domanda vado a buttoli secondo voi alt season per chi di voi ha schillato anche nell'analisi ciclica quando può avvenire quali sono i mesi che portano innescare un alt season nel prossimo anno non mi interessa quella di quest'anno che secondo me se c'è sarà debole ma nel prossimo anno secondo voi date buttate giù tutto nei commenti ci vediamo nel prossimo video ciao ciao